benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui con il mio bambino johan de viz incrociatore tier 9 olandese pesantissimo una delle più potenti unità non premium cruiser creata dalla wargaming da quando esiste questo gioco il de viz è un incrociatore totale a pochissimi punti deboli e ha tantissime armi pazzesche nella sua nel suo nella sua faretra perché ha delle frecce continue che lui permettono di adattarsi quasi a qualsiasi situazione è veramente un incrociatore totale siamo qua praticamente su hotspot zona calda niente portaerei mogador z46 neutro scimi o stai gotalan contro jutland schultz tashken e neutro scimi dall'altra parte ci sono diversi tier 10 in acqua anche particolarmente pesanti come la thunder come il marco polo come la yamato quando cercheremo di vendere cara la pelle perché questa nave è fatta di adamantio comandanti e ad un'armatura molto particolare ma soprattutto a una sorta di mischi una sorta di mix che prevede armatura cannone potente mimetismo incredibile insomma è un mix di tante cose che lo rendono incredibilmente divertente da giocare è in assoluto la mia nave preferita testata in questi primi mesi del 2021 tra l'altro il deviz ha anche una storia in realtà che non si è mai realizzata nel concreto perché era una versione più piccola del progetto 1047 dei paesi bassi era un progetto che prevede alla realizzazione di alcune di queste navi per permettere ai paesi bassi di difendersi dall'imminente e scontata invasione giapponese nel pacifico utile dire che l'attacco tedesco e la capitolazione dell'olanda non ha permesso la realizzazione di queste navi e nel 44 poi sono state completamente cancellate in ogni caso il design è stato super super studiato e sono arrivati veramente a tanto così da realizzare delle navi molto simili a questa come potete vedere siamo impegnati sul lato destro il destroyer alleato classico giocatore col computer a carbonella e ancora fk pomer e republic dimostrano subito di avere scarsissima propensione al combattimento se ne danno è praticamente alla fuga e nel questo punto noi cerchiamo di dare il benvenuto al brindisi che attacca la zona di d insieme al suo destroyer che poi scopriremo essere se non sbaglio lo schultz con la marco polo rimorchio ora quel giocatore tra l'altro è un giocatore italiano perché è il signor silvestar degli oita ed è un signore che probabilmente non vede i nostri video perché altrimenti saprebbe che un brindisi senza sonar senza radar non deve attaccare il cap in quel modo dopo neanche tre minuti di partita sapendo che c'è qualcuno che può aspettarlo noi l'abbiamo visto subito poi siamo qua pronti a fargli la festa marco polo che scende poco dopo di lui brindisi che usa la cortina fumogena ora praticamente è in mutande perché quando verrà avvistato per noi sarà festa grande anche perché a sud le nostre correttate lo tengono in scacco vuol dire che appena verrà avvistato potrà dovrà solo virare e a quel punto per noi sarà un piacere fargli la festa è quello che vira esattamente dove ci aspettavamo e giù botte smezzato praticamente con una salva tiriamo leggermente in andontamento entra in azione secondaria lui fa quello che può tirandoci una legna perché ovviamente deve rispondere al fuoco entra nel panico totale va a schiantarsi contro l'unica isola della zona a quel punto altra legna in cittadella abbiamo una ricarica migliore della sua aspettiamo di dargli il colpo di grazia per spedirlo a far compagnia alla sirenetta e purtroppo per lui il nostro amico italiano dopo neanche quattro minuti torna mestamente in officina cancellato il brindisi abbiamo completamente il lato destro pulito e per noi è festa grande c'è un destroyer che arriverà a rimorchio ma se guardate il computer da carbonella del nostro alleato si è attivato e finalmente anche lo z è in aiuto verso il nostro lato a questo punto salva sulle sovrastrutture della marco polo e attiviamo il nostro air strike che poi tratteremo nel taglio ma lo vedrete molto meglio nel corso della partita questo consumabile a differenza degli altri video arrivano i siluri del brindisi scontatissimi riuscito a lanciare poco prima di morire a questo punto ci mettiamo in allontanamento per evitarli lo z 46 guardate un po becca lo jutland nemico in questo modo permette anche alla colombo che è dietro di noi altra accorazzata dal dal cuore impavido di sparare contro il destroyer inglese evitiamo al limite proprio grazie al timone che è eccezionale il siluri italiani e cominciamo a colpire il destroyer nemico il compartimento hp del deviz raggiunge 45.900 ha un danno e riduzione su tor del 19 per cento e un'armatura incredibile che poi vedrete nel dettaglio che raggiunge col fasciame massimo laterale 225 mm è una delle più pesanti tra i tier 9 la velocità massima è piuttosto lenta 32 nodi mentre il timone è eccezionale 740 metri di raggio virata nonostante sia una nave così pesante con un timone che risponde in nove secondi e mezzo di massima efficienza è un timone incredibile per una nave così grossa intanto il nostro amico il computer carbonella è tornato già nel porto e ci ha messo praticamente tre minuti a entrare in battaglia e la sua partita è durata un minuto complimenti per l'ottimo e veramente l'ottimo esecuzione della tua partita z46 il signor svattai veramente che pacco per quanto riguarda il suo consummate è pazzesco comandanti 10 chilometri di avvistabilità massima via acqua e 7 chilometri via aria trovatemi un altro incrociatore così grosso così forte difensivamente così potente con i cannoni che ha questo consulmente in realtà esisteva era il drake prima che l'owner fassero ecco perché l'amo così tanto questa nave assomiglia molto al drake comandanti e non solo per il calibro anche se guardate le sembianze sono simili a quelle del drake se guarda adesso ma abbiamo messo lì in uno dei nostri ice 3 per fare la festa alla marco pollo che ora viene avanti ci prepariamo ovviamente per andare in kiting perché non possiamo andare a fare testa a testa con lei e via giù le nostre bombe a grappolo arrivano i nostri bombardieri e via 10k così purtroppo però niente incendio utilizzo molto spesso i colpi in api su questa nave perché hanno comunque fanno comunque un buon danno avete visto come soffriamo terribilmente le sap sia quelle prima del brindisi sia quelle adesso della corazzata italiana premium per quanto riguarda i cannoni di questa nave sono tre torri trinate da 240 millimetri che sparano praticamente fino a 18 chilometri 6 con le skill e i moduli che poi vi farò vedere nel post partita 190 metri dispersione a quella distanza una ballistica da 900 metri al secondo che praticamente è quella che avete visto anche su altri incrociatori olandesi precedenti il brandaggio torri 26 secondi per 180 gradi la ricarica è praticamente il suo unico vero problema una ricarica in 17 secondi base migliorabile poi ovviamente con adrenalin rush ma comunque è una ricarica piuttosto lenta in questo assomiglia molto ai cruiser italiani per quanto riguarda i proiettili veri e propri l'ha e ha un 22 per cento di fire chance con 40 millimetri di penetrazione base senza gli fk che non va utilizzato qua sopra è un danno massimo di 3400 mentre quello p 6100 di danno massimo con la stessa identica balistica 900 metri al secondo se guardate i consumabili in basso oltre al classico sonar che praticamente spotta le navi a tre a cinque chilometri e siluri a tre e mezzo anche un defense fire perché poi la tratteremo l'antiera perché è qualcosa di allucinante potentissima e poi al classico scout che si può preferire anche al fighter ma lo scout è sempre una scelta migliore il reper party che ora in azione lo trattiamo per un attimo perché è incredibile voi potete dire potete pensare ma è un classico reper party guarda stai recuperando un po di punti vita come tantissimi altri incrociatori e invece no è un'altra chicca del davis il davis comandante a questo repair party che ricarica in soli 40 secondi guardate tra 30 secondi avremo nuovamente a disposizione il nostro repair party è incredibile è un altro bonus che ha il davis il suo repair party è continuo quindi praticamente e avete continuamente a disposizione una riparazione di punti vita è una nave fatta per fare a sportellate come pochissime altre in questo gioco forse nessuna nel reparto cruiser standard almeno fino ad oggi in questo gli olandesi sono veramente incredibili dal tier 8 in avanti l'antiera comandanti è è incredibile è un'antiera composta da cannoni da 20 e 120 millimetri fino a 6 chilometri quindi gittata e calibraggio potete dire standard ma c'è una chicca col setac che vi faccio vedere dopo perché ho aggiunto una skill antiera cosa che io non faccio mai ma questa volta l'ho fatto ma c'è ma arriviamo a quasi a 2032 di danno flac esplosivo e la bellezza di 569 di danno continuativo ha un'antiera potentissima il cruiser tier 9 con l'antiera più potente ed è in grado di fare cose pazzesche riesce anche addirittura a fare molto male col 50 per cento di reinforcement sul lato quando lo utilizzate è incredibile fa dei danni assurdi le tier 8 le scioglie le tier 10 gli fa comunque molto molto male avete un'antiera superiore per danno continuativo a quella di un alland per dirvi e avete anche il defense fire a disposizione quindi figuratevi che mostro può diventare a livello antiero le porterie si spaventeranno quando ci sarà in a condevito comunque sarà uno degli ultimi target che prenderanno in considerazione guardate adesso la borgogna sta rallentando noi diamo lo spotting del mogador e giù un doppio airstrike guardate i secondi da 12 passano per le stanno passando velocemente a zero quando quel numero arriverà a zero le bombe toccheranno l'acqua e quindi toccheranno anche lo scafo della corazzata francese infatti guardate siamo riusciti a fare oltre 10.000 e anche un incendio è arrivato l'airstrike di questa nave che poi comunque vedrete ancora nuovamente in azione contro la battleship tedesca è un airstrike che comprende qualcosa come 10 aeroplani suddivisi in due attacchi 37 per cento di fire chance fino a 12 chilometri con un 2110 hp sono i punti vita degli aeroplani e praticamente 100 secondi di ricarica per quanto riguarda il danno massimo delle bombe 6.100 di danno massimo diciamo che ottenibile con una penetrazione fino a 36 millimetri quindi diciamo che comunque è buona a questo punto stiamo in questa posizione non non volevamo entrare nel cap perché temevamo di incosciare lo schulz o non volevamo più che altro fare a botte con il destroyer nemico questo perché comunque ha tanti siluri e noi non ce li abbiamo a questo punto cerchiamo di affondare tutti i costi la borgogna ma ora dovremo prima o poi entrare perché la differenza di punti col nemico è enorme e dall'altra parte dubito che musashi e da sola con lo stergotel magari a rimorchio possa riuscire a fermare de grossi amato due incrociatori il tashkent e la thunderer a rimorchio per quanto riguarda invece il resto della nave praticamente l'abbiamo trattato possiamo ora goderci la partita perché a livello statistico abbiamo dato tutto quello che dobbiamo dire siamo già arrivati praticamente al ridosso del milione di danno potenziale tra l'altro il bello deve ancora arrivare a questo punto ci spostiamo a destra e mi aspettavo un mogador molto più aggressivo nel cap invece si limiterà sostanzialmente a sparare agli avversari che noi teniamo spottati avete visto non c'è stato nessun problema grazie all'aeroscout abbiamo trovato anche la yamato a quasi 20 chilometri addirittura con cinque colpi non è assolutamente un problema il colpo è particolarmente preciso e la brandeggio il brandeggio ottimo come anche la ballistica di conseguenza è veramente uno scherzo sparare con questa con questa nave estremamente confortevole la cosa sappiamo che c'è praticamente la borgogna il ripiegamento sul che paghiamo ora uno svantaggio di quasi 350 punti sono tantissimi considerando che mancano solo 8 minuti e siamo anche sotto di navi perché come ho detto prima era prevedibile capirlo e la musashi è stata praticamente affondata qua forse potevo essere un po più aggressivo su di ma se poi vedete la fila della partita lo vedrete con me vi accorgerete che non abbiamo perso ai punti abbiamo perso semplicemente perché i nostri dati sono fatti ammazzare poi uno dietro l'altro anche se comunque guardatevi tutta la partita perché venderemo cara la pelle e giocheremo veramente al pelo dei mille punti fidatevi vi divertirete a borgogna ovviamente trova l'incendio i suoi cannoni sono specializzati in questo passiamo agli h e per un attimo cercando la struttura e giù nuovamente di airstrike per cercare di colpire la nave in previsione se guardate avete passano sempre circa 12 13 secondi da quando voi mettete giù l'attacco all'arrivo vero proprio delle bombe e a strike ovviamente più difficoltoso utilizzare maggiore la destra ma soprattutto maggiore la velocità del target più è veloce il target più è difficile capire effettivamente dove dovete mettere il vostro rettangolo barra quadrato per poi colpire nella drop zone il nemico questa volta se non sbaglio guardate un po la borgogna rallenta quasi in maniera fortunosa e il nostro resta questa volta colpisce in pieno la battleship francese poi qua è un discorso legato anche alle rng ragazzi fa e pura fortuna voi potete essere bravi quanto volete nel prevedere che la nave sia in quel quadrato quando poi le bombe arriveranno con i paracadute ma ovviamente c'è un limite anche a quello dovete semplicemente avere un po di culo con le rng torniamo la kill sulla borgogna cominciamo a cap decappare la base di di e cominciamo anche a ingaggiare yamato che è in in fase centrale insieme alla de gros la yamato fortunatamente per noi è parecchio presa dalla da lindenburg e quindi non ci non ci spara contro questo modo possiamo cercare di fare qualche danno anche su di lei qua io non sono uscito subito perché tenevo l'arrivo dei siluri dello schultz che sono anche lenti ma vanno terribilmente lontano la conosciamo bene quella nave e quindi avevo paura che potesse arrivare qualche trambata improvvisa e andiamo pur sempre solo 22 mila punti vita e anche se nostro reper party si ricarica velocemente andiamo possiamo pur sempre un incrociatore sto tra l'altro conservando la il sonar proprio per quello guarda adesso perché la de gros nemica sarà la nave che forse più di tutte soffrirà il nostro air strike devo dire che le batte scite di esche sono veramente prese di mira tantissimo della wargaming poi le bombe api voi alcuni colpi sap che penetra maggiormente sulle sulle strutture inglesi poi anche questo air strike insomma le batte scite di esche sono carne da macello molto spesso per tantissime meccaniche inventate in world of wars guarda adesso air strike in azione nuovamente 53 secondi ora di ricarica su questo drop 7 secondi per arrivare praticamente le bombe la nave praticamente è dentro qualcosa dovrà prendere per forza eccolo che arriva un incendio arrivato meno di 6 mila di danni con l'andare del tempo durante i test ho notato che è molto più più fastidioso per il nemico essere costantemente incendiato piuttosto che fare il danno puro vero e proprio il record che ho registrato con il air strike per quanto riguarda il compartimento olandese diciamo 9 e 10 a livello di tier è stato 23 mila con un singolo drop sulla schiena di un demoin che era praticamente fermo è notato che sugli incrociatori da battaglia e gli incrociatori pesanti in generale l'air strike quando le navi sono ferme è veramente devastante questo perché hanno anche dei punti molto più leggeri rispetto alle normali corazzate guardate un po la de grosso ormai praticamente è un albero che sta prendendo fuoco occhio perché non solo c'è la de grosso qua c'è anche la thunder che ora ci prenderà di mira e comincerà ad accorciare su noi ecco perché effettuiamo questa virata a sinistra per evitare la maggiore parte della salva della battleship inglese che stranamente sta camperando là dietro che strano è high strike nuovamente in azione high strike questa volta che colpisce in c'è nuovamente la de grosso che poi viene finita dal mugador questo punto voi potete dire vai blizzard ce la puoi fare due a due quattro contro quattro in realtà comandanti e non sarà così facile questo perché l'indenburg poi verrà massacrato si farà uccidere dal magnetor non so come ma comunque sarà proprio quel magnetor maledetto lago della bilancia devo dire che ho rosicato non poco perché vedete a parte il fatto che abbiamo perso adesso il nostro in denburg ucciso dal magnetor fa veramente ridere a quella distanza ma soprattutto mi ha fatto fastidio il fatto che quello schultz che è ancora vivo e sta imperversando al centro è quello poi che era vicino al nostro cap e con un po' più di precisione delle nostre corazzate che giocavano sotto il cap di di in particolare la cristoforo colombo quella nave si poteva tranquillamente uccidere almeno 5 se non 6 minuti fa stiamo cercando il copo conclusivo sulla thunderer che ovviamente si mette in fuga perché sa che ha un gap enorme rispetto a noi lo star gottland dovrebbe avvicinarsi al magador per cercare di centelinare le forze insieme guardate un po' purtroppo anche qua la sfiga e ho sparato due secondi prima che lo schultz venisse avvistato altrimenti questa salva era tutta su di lui e a quel punto e aspettiamo poi forse potevo anche utilizzare l'air strike sull'ultima posizione dello schultz ma ho aspettato perché ero preso dalla thunderer anche qui altro errorino che forse potevo aggiustare ma ci ho pensato veramente troppo tardi anche perché se guardate la thunderer è oltre i 12 chilometri e praticamente a 16 non c'è possibilità per l'air strike di colpire la infallera fino a 12 digitata vediamo aggiustare per forza la rotta questo perché non possiamo dare il broadside a un 150 tedeschi se è un mezzo suicidio sullo schultz come sull'elbing non sottovalutate mai la potenza dei canoni di nuovi destroyer pesanti tedeschi il magador va a caccia praticamente dello schultz però non ha fatto i conti che ho un'altra cosa ovvero sul fatto che c'è comunque il minator a rimorchio noi purtroppo imbarchiamo questo siluro gratis subito comunque abbastanza bene salva sullo schultz ma non basterà per affondarlo incredibile tra l'altro il magador si è fatto torpare dallo schultz robe assurde vi risparmio gli ultimi secondi di partita perché sono imbarazzanti e andiamo quindi direi allo screen del match che è la cosa più importante oltre a 171.000 danni quasi 150 colpi o 43 colpi di airstrike 5 incendi 4 kill 5 cittadelle, diverse basi difese e qualche colpo di secondaria bisogna fare il possibile ma i nostri tirati erano veramente poca cosa specie le corazzate quasi 1800 punti per endo sono veramente tanti i comandanti di là nulla da dire che il task il minator o lo schultz hanno fatto i buchi quelle tre navi hanno deciso la partita in particolare il minator e il task hanno fatto i buchi a sinistra dove poi hanno sfondato e sono riusciti ad arrivare sulla zona centrale di mappa che dire abbiamo fatto il possibile ma non è bastato per quanto riguarda invece il setup skill che vi consiglio per adesso sul deviz è questo e guardate l'ultima skill in basso a destra ebbene sì la skill anti-area è quella che fa cambiare marcia la nave è quella che permette al deviz diventare un vero e proprio incubo per le porte aerei raggiungendo dei danni elevatissimi specie quando il defense fire è attivato certo lo potreste anche sacrificare ma a me piace mettere un po' di terrore sulla schiena delle porte aerei quindi io ve lo consiglio così anche perché ho notato che altre skill importanti per questa nave non ci sono e quindi ho deciso di giocarlo così ovviamente la nave è praticamente a disposizione non ci sono anticipato quindi bisognerà ancora giocarla a lungo bisognerà ancora vedere come poi effettivamente si adatterà al meta e soprattutto alle varie partite le tipologie di partite di World of Warships ma questo comunque per adesso è il nostro setup iniziale sottolineo iniziale per quanto riguarda invece la scheda armatura è la seguente è uno dei cuori pulsanti della nave pru e poppa da 25 con una pru rinforzata da 40 timone anche questo da 40 le torri sono portate da un fasciame che va da 90 a 250 mm le sovrastrutture sono le solite il ponte centrale è da 30 ma diventa da 40 in quella zona a gradino che lo separa dal fasciame laterale da 27 che è la sua sovrastruttura per la protezione antitorp sostanzialmente è un'armatura piuttosto complessa ma la prua è incredibilmente prestante ricorda molto lo so sicuramente ci avrete pensato il Petropavlovsk e in generale gli incrociatori pesanti sovietici per quanto riguarda la scheda armatura antaglia della cittadella è la seguente 200 fasciame doppio se guardate quello da 225 è la sua protezione vera e propria laterale di fasciame 25 sopra il ponte 40 è la zona centrale che non si può raggiungere più bassa praticamente sommersa quelle due stazioni da 200 che potete vedere una sopra l'altra sono separate solo il rettangolo sotto è la cittadella quello sopra è una specie di guscio vero e proprio uno scudo da 200 mm che protegge la cittadella quindi non è così facile raggiungerla specialmente quando si inclina la nave avete visto qualche colpo di Yamato Borgogne Thunderer che non è mai riuscito a farci male questo perché appunto l'armatura del De Viz è veramente molto molto prestante passiamo al bilancio finale ed è un bilancio super super in positivo perché il De Viz io comandanti lo amo e purtroppo lo devo super promuovere perché la sensazione è questa i punti di forza tantissimi armatura possente mimetismo pazzesco cannoni 240 buona gittata ottimo brandeggio e balistica anti-aera da tier 10 con quella skill timone efficiente l'avete visto anche sui torp come riesce ad aggiustarsi pazzesco 700 metri raggi virata in 9 secondi e il repair party è a disposizione ogni 40 secondi avete visto la sua servability è incapace di veramente di a volte di tankare letteralmente come una corazzata senza nessun problema e poi doppio airstrike potente fino a 12 km avete visto magari non fa danni potentissimi ma è comunque a volte un incendio incessante soprattutto dovete considerare che più lo giocherete più diventerete bravi a utilizzarlo e lo potrete utilizzare ogni minutino ogni minuto e mezzo in continua in continuazione quindi sarà veramente una grossa risorsa per la vostra un bel boost sui danni i problemi abbastanza lento ma comunque è un problema bypassabile nessun radar e anche questo è un mio punto di difetto personale nel senso che secondo me gli incrociatori top tier che non hanno il radar bene o male hanno a delle volte dei problemi quindi secondo me effettivamente è un problema che hanno per riuscire a combattere in certe circostanze quindi io lo metto sempre quando parlo di 9 ai 10 ma è un punto di vista personale e infine l'ultimo che è il suo vero e proprio problema lunghi tempi di ricarica 17 secondi stock quello è il suo unico vero difetto ma è un difetto che come avete visto è tranquillamente bypassabile perché la fire chance è alta le AP fanno male quindi bene o male lei riesce comunque a lavorare benissimo anche con una ricarica così lunga è una nave pazzesca è una nave molto e completamente diversa dalle navi precedenti quindi qui c'è un ulteriore cambio di marcia per quanto riguarda i cruiser olandesi ragazzi godetevela perché non so quanto resterà in questo stadio ma per adesso il De Viz è molto molto forte e ampiamente promosso io spero che il video vi sia piaciuto spero che vi siete fatti un'idea di questo pesantissimo incrociatore tier 9 spero che vi siete divertiti noi ci sentiamo alla prossima con un nuovo video da Bellizzare è tutto buona caccia comandanti